Gesù viene crocifisso insieme ad altri due. È terribile. Siamo alla fine della giornata ma piano piano il cielo comincia ad uffuscarsi. Scende la notte. Per forza. Hanno crocifisso Gesù. Lui che è in qualche modo la luce del mondo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Vedendo tutto questo tuo sacrificio noi non possiamo altro che dire gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. La croce è terribile. Chissà che male hai sentito ma noi sappiamo che lo hai sopportato per amore. Quella croce terribile per quanto brutta è una parola che grida tutto il amore per noi. Vi amo fino a morire dice.